Un flash mob pacifico, pittoresco e piacevole, fatto di note e concetti, a dar vita alla manifestazione ieri pomeriggio alcuni musicisti aquilani che hanno portato in Piazza Duomo però le istanze di diverse categorie che si dicono penalizzate dal coprifuoco alle 22. Diego Del Vecchio è stato uno degli organizzatori, molti all'Aquila vivono anche di spettacoli dal vivo e dopo un anno di stop totale l'auspicio era quello di poter tornare a lavorare in sicurezza e serenità. Poterlo fare sino alle 22 però penalizza un mondo di artisti, musicisti, service ed esercenti che si chiedono quale sia ad esempio la differenza tra suonare alle 18 e alle 23 cambia per loro solo il target e così in Piazza Duomo nel cuore della città hanno portato le loro note e i loro strumenti tra lo sguardo curioso dei passanti per ribadire che vogliono lavorare, che vogliono farlo sì con regole e sicurezza ma senza un coprifuoco in un orario che ritengono assurdo. Noi ribadiamo non siamo no max, no mask, assolutamente crediamo nella scienza, non vogliamo sostituirci a nessuno però crediamo che questa restrizione incredibile che ci porterà se così dovesse rimanere fino al 31 di luglio è allucinante per tante categorie non solo per noi musicisti ma noi anche come cittadini noi non solo vogliamo fare gli spettacoli ma vogliamo usufruire degli spettacoli. Fino al 31 luglio in una città dove noi sappiamo che ad agosto praticamente già inizia a fare fresco coprifuoco alle 22 è incredibile. Noi abbiamo fatto questa manifestazione come musicisti ribadisco ma rappresentiamo le stanze di tantissime categorie correlate a quello che è lo spettacolo, l'intrattenimento ma anche il turismo pensiamo a coloro che fanno i service. Questa è un'iniziativa, una disposizione che si scontra con dei paradossi incredibili quali ad esempio gli autobus, i mezzi di trasporto soprattutto nelle grandi città li vediamo quotidianamente, stracolmi di gente che deve andare a lavorare, quindi gente che rischia la vita ma deve andare a lavorare, quindi vediamo queste metropolitane piene, oppure le città nei weekend sono piene di gente, i centri storici delle città sono piene di gente, allora mi chiedo che differenza c'è tra un sabato, una domenica pomeriggio in centro e la sera dopo le 22? Si sostituisce solamente l'utenza dalle famiglie, si passa ai ragazzi probabilmente.